Time Vision ricerca un responsabile tecnico dei servizi alle imprese ed un tecnologo di ricerca per la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti presso la sede di Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa. Per la stessa azienda ma per la sede di Pozzuoli in provincia di Napoli si ricerca anche un CFO. Ben ritrovati con il Tg lavoro di Time Vision, il format che ti mantiene sempre aggiornato su tutte le offerte di lavoro presenti sul territorio nazionale. Come anticipato dai titoli andiamo a vedere nel dettaglio le offerte di lavoro di oggi. Time Vision ricerca per la stazione sperimentale dell'industria delle pelli e delle materie concianti un responsabile tecnico dei servizi alle imprese e anche un tecnologo di ricerca da inserire in sede a Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa. I requisiti richiesti sono diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o laurea specialistica in discipline in ambito economico, gestionale, tecnico e scientifico, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza degli applicativi di office e dei sistemi operativi Windows. Conoscenza della filiera e del prodotto conciario a seconda della figura professionale finalizzata a garantire il supporto tecnico necessario alle esigenze aziendali. È previsto l'inserimento attraverso contratto a tempo determinato. L'orario di lavoro è full time dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 16 e 06. Il luogo di lavoro è nel distretto conciario di Santa Croce sull'Arno ed è richiesta la disponibilità a spostarsi anche presso altre sedi o distaccamenti. Ed ancora, sempre per la stazione sperimentale e per l'industria delle pelli e delle materie concianti, si ricerca un CFO, Chief Financial Officer. Tra i requisiti principali ci sono diploma di laurea, vecchio ordinamento, laurea magistrale o anche laurea specialistica in economia e commercio oppure titoli equipollenti. È prevista anche la conoscenza della lingua inglese, la conoscenza degli applicativi di office ed esperienza professionale di tipo economico-finanziaria di almeno 10 anni. Si prevede l'inserimento con contratto a tempo determinato 24 mesi con la facoltà di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. L'orario di lavoro è full time, 40 ore settimanali dall'unedì al venerdì dalle 8 alle 16 e 06. Il luogo di lavoro è a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Se è interessato ad una di queste offerte, allora clicca il link che di Napoli. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS